Ben ritrovati su Medio Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla campagna. L'intensa perturbazione che nelle ultime 24-36 ore ha interessato la nostra regione si allontana verso Leggeo, associata a una depressione che sta perdendo vigore. Perturbazione che si è rivelata molto intensa, determinando abbondanti precipitazioni, con fenomeni anche estremi su alcune località. Questo grazie alle elevate temperature delle acque del mare e dell'aria. Quindi abbiamo avuto nelle settimane scorse un'accentuata anomalia termica positiva e durante il passaggio di fondi perturbati questo comporta un eccesso di carburante che va a ridicorire le perturbazioni esaltandolo i fenomeni. Ora abbiamo l'inserimento di un promontorio da Nord Africa che per i prossimi giorni interesserà il bacino del Mediterraneo ma con la sua rotta forte spostata verso l'Ouest. Quindi sarebbe interessato marginalmente. Ma portando quanto basta per garantire un miglioramento delle condizioni meteo con temperature che progressivamente tenderanno ad aumentare, portandosi nei prossimi giorni come vedremo, su valori abbondantemente al risorre della media del periodo, relativamente ai valori massimi. Ma in dettaglio vediamo il tempo per rischio dei prossimi giorni, partendo da martedì 13 febbraio. Sull'intera nostra regione avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con maggiori addensamenti nelle aree interne, ridosso dei rivieri, dove nel pomeriggio sarà possibile qualche breve ed isolato piovasco sparso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente nei valori massimi, mentre le minime della notte tenderanno a diminuire grazie ad una maggiore serenità del cielo. La ventilazione settentrionale debole e il mare poco mosso. Per mercoledì 14 febbraio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque sull'intera regione, ventilazione debole settentrionale, temperature massime in aumento, minime stazionale, ma con valori che potrebbero portarsi vicino a 0 gradi centigradi nelle aree interne, sulle pianure e nelle vallate interne. Questo a causa di un cielo sereno, quindi avremo un'escursione termica di una accentuata. Nei giorni successivi, come possiamo apprezzare da questa mappa prevista per venerdì, un'analisi in quota elaborata dal centro europeo di Reading, osserviamo come il promontorio subtropicale si sposterà leggermente verso est, dunque inglobando più direttamente la nostra regione, e quindi avremo una condizione di stabilità tra giovedì e sabato, soprattutto, con temperature in ulteriore aumento. Notate come l'alta pressione tendrà a dirigersi verso nord, sulle isole britanniche, questo consentirà ad un cavo londa di portarsi verso sud, ma non ci interesserà, almeno fino a domenica, nessun fronte perturbato. Quindi possiamo dire che ritroveranno in condizioni di stabilità, soprattutto da giovedì, fino probabilmente a tutto domenica, con temperature che risulteranno al di sopra della media del periodo. Il freddo ancora una volta, l'inverno, che finora non si è fatto vedere sulla nostra regione, ancora latiterà. E probabilmente arriveremo in zona Cesarini per avere qualche incursione di aria fredda, ma su questo bisognerà riaggiornarsi, per cui vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito Mediciulianci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.